L'appuntamento è per stasera, su Rai 3, alle 2140. Poppy, insieme agli altri 19 borghi finalisti, sarà protagonista della trasmissione condotta da Camilla Razzinovici. La serata prevede due fasi una prima fase eliminatoria, nella quale ci saranno 4 sfide da 5 borghi Cisakuna e una fase finale in cui si sfideranno i 4 borghi vincitori delle eliminatorie. Il tutto per arrivare ad eleggere il borbo dei borghi. Per giungere al verdetto finale, in entrambe le fasi, verrà utilizzato un metodo di votazione misto o una giuria composta da tre esperti, il cui voto peserà per il 50% e una giuria popolare che potrà votare da casa con il sistema del televoto, il cui voto peserà per il restante 50%. Si potrà votare sia da telefonia fissa, o l'894.222, sia da telefonia mobile e inviando un SMS al 475.475.0. Il servizio è raggiungibile dalle utenze mobili di Tim, Vodafone, Windows, H3G e Poste Mobile. I telespettatori che vorranno votare dovranno digitare il codice del borgo preferito sulla tastiera del telefono fissile.